Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, un inseguimento lungo le strade del quartiere di Saione ad Arezzo e poi l'arresto. Erano circa le 14 di ieri quando durante un servizio di controllo proprio del territorio una pattuglia della polizia ha notato nei pressi dei giardini di Campo di Marte un giovane che indossava un marsupio e che aveva un atteggiamento sospetto. Alla vista infatti della polizia ha cercato di scappare, ad un certo punto si è anche liberato della bicicletta e ha provato a scappare a piedi ma poi è stato raggiunto. Il giovane di origine nigeriana nel marsupio aveva nascosto alcuni involucri con stupefacente, alcuni telefoni cellulari e denaro contante oltre 1000 euro. Per lui sono scattate le manette. Adesso invece parliamo del maxifurto che ha danneggiato non poco l'istituto Margaritone. Ci racconta tutto Chiara Sadotti. Da qui hanno preso, l'hanno piegato e hanno tirato fuori tutto. Sono entrati nella scuola di notte forzando una porta sul retro e sono riusciti a mettere a segno una maxicolpo da 70.000 euro a pochi giorni dal suono della prima campanella. È successo nella notte tra lunedì e martedì, bersaglio del raid all'istituto Margaritone. Sono ancora scioccata, le dico la verità. La banda, una volta dentro, è andata a colpo sicuro. Per prima cosa si è diretta nelle stanze della segreteria. Hanno staccato dei cavi, quindi io immagino per portare via anche i computer, gli all-in-one che abbiamo in segreteria. Quindi ha ripulito il carrello mobile in cui erano disposti i tablet, circa un centinaio quelli che è riuscita a portare via. Qui, infatti, è stato chiuso, erano tutti gli altri tablet. Si tratta di strumenti utilizzati anche per facilitare e agevolare l'apprendimento di tutti gli studenti con disabilità. Vengono custoditi nella sede centrale del Margaritone, ma di fatto ne beneficiano gli alunni di tutti e nove plessi della scuola. Quindi, oltre ai bambini diversamente abili, che sicuramente una buona parte, metà, il 50% è loro, altra parte serve ai bambini, ai DSA, per esempio, oppure la progettazione curricolare. C'è tutto, diciamo, un curriculum che viene danneggiato. Scardinate e saccheggiate anche le macchinette automatiche. Immediata la denuncia presentata alla Polizia di Stato, che sta indagando sul caso. L'allarme della scuola, nelle ore precedenti al colpo, era partito per ben due volte, ma la vigilanza non aveva notato nulla di sospetto. Mi hanno chiamata, però mi hanno assicurata che era tutto a posto. Un altro furto, nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 settembre, è avvenuto in un laboratorio di Arezzo. I malviventi si sarebbero introdotti al suo interno, portando via materiale di lavorazione per un valore complessivo di circa 1000 euro. Il colpo sarebbe stato messo a segno da due persone con il volto travisato. Adesso sono in corso le indagini. Ed è stato un fine settimana di controlli. Anche in Val di Chiana, a Cortona, i carabinieri hanno ritirato due patenti in entrambi i casi, perché chi si era messo alla guida era sotto l'effetto dell'alcol. A Foiano della Chiana, invece, è stato segnalato alla prefettura di Arezzo un ragazzo trovato in possesso di quasi 12 grammi di sostanza stupefacente, nello specifico Ashish. Adesso invece parliamo di un appello, quello di Arezzo Autismo, che sembra davvero essere caduto nel vuoto, ma le famiglie non mollano. Sentiamo. Si ascoltano i problemi sindacali, si ascoltano i problemi delle gradatorie, delle leggi, della professionalità dell'insegnante che magari sia specializzato in greco e entra attraverso il sostegno per poi entrare di ruolo. Tutto legittimo. Tutte le leggi parlano, mettono al centro lo studente. Vediamo di metterlo al centro anche lo studente disabile. È partita ormai due settimane fa una lettera di Arezzo Autismo indirizzata al ministro per l'istruzione, quello per la disabilità e al provveditorato agli studi di Arezzo, ma di risposte al momento nemmeno una. Oggetto della lettera, che nel frattempo è stata ripresa da tutti i media locali e nazionali, la mancata continuità didattica per gli studenti con disabilità. Mio figlio ha 11 anni, è un bambino autistico che inizierà la scuola media. Fino ad oggi ha frequentato la scuola primaria e ha cambiato 7-8 insegnanti di sostegno. Per non parlare della scuola di infanzia, tre anni precedenti, ha cambiato 4-5 insegnanti di sostegno. Manca la continuità. Mancano anche la copertura delle ore del sostegno e più si va avanti nel percorso scolastico e meno copertura c'è. Ad esempio adesso inizierà la scuola media e la copertura è di sole 18 ore. Un problema non certo recente, ma sempre inascoltato. Non per questo le famiglie sono disposte ad arrendersi di fronte a quello che è un diritto negato. Qual è la cosa che fa più male quando si è così inascoltati? Fa più male sapere che il proprio figlio ha delle attitudini, ha delle competenze e l'istituzione scolastica con difficoltà riesce a valorizzarle. Questo fa male perché poi questo si ripercuoterà nel futuro nella realtà lavorativa. Tutti i ministri che arrivano in questi anni si sono dichiarati pronti, pronti, pronti. Però noi, mia figlia ha 17 anni, pronti, pronti, pronti. Per ora non sono pronti. Una brutta caduta in bici questa mattina intorno alle 11 e mezza. Vittima un ragazzino a Monte San Zavino che stava percorrendo a bordo appunto della sua bicicletta via della Pace, una strada in discesa, ha perso il controllo ed è caduto. Soccorso è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Meyer di Firenze. E continua la polemica per l'accoglienza migranti nel territorio della provincia di Arezzo a prendere di nuovo posizione sulla questione. È il consigliere comunale della Lega Egiziano Andreani in merito alla scelta della Fraternita dei Laici di ospitare a questo punto è diventata una concretezza 13 giovani migranti in una struttura che si trova nel comune di Civitella in Valdichiana. Non entro nel merito, dice, della vicenda umana di queste persone che possono provenire da situazioni difficili se non addirittura di pericolo per la loro stessa vita ma non posso tuttavia sottacere alcuni aspetti. La Fraternita dei Laici, dice Andreani, non è compresa tra gli enti gestori dell'accoglienza e allora perché ha dato seguito a questa scelta e perché si è messa a disposizione? Perché, soprattutto, si chiede il consigliere, è spuntata una sede senza che Fraternita partecipi a bandi o candidature. Insomma, tutte questioni che, come dicevamo, riaccendono questa polemica. E allora, tutti pazzi per il granchio blu, anche nell'Aretino, ci dice tutto. Chiara Sadotti. Nasce, dopo una feria che abbiamo fatto nel Tirreno, verso il Grossetano, esattamente alle Rocchette, abbiamo conosciuto un gruppo di pescatori che si lamentavano, proprio a mo' di piangere, di dire questi ci stanno distruggendo. Ma perché voi ristoratori mi ha fatto uno di questo? Come domanda. Non ci date una mano a consumarli. Detto fatto. Non se l'è fatto ripetere due volte Valentino Caldiero, storico ristoratore Aretino, e si è subito messo ai fornelli. Protagonista del suo ultimo piatto, il crostaceo più discusso dell'estate, il granchio blu. Dopo scontato il fatto che è buono perché mangia solo ostriche, cozze, vongole, è il granchiettino più piccolo, quindi se non è saporito questo. È l'abitante più temuto dei nostri mari, arrivato dagli Stati Uniti nell'acqua di stiva delle navi cargo, è diventato ben presto infestante. Nemico numero uno dei pescatori, particolarmente invasivo, per nutrirsi, distrugge tutto quello che trova, dalle vongole ai pesci. È un assassino del mare, ci sta portando via tutte le materie. Vogliamo arrivare a pagarle 35 euro le vongole a Natale? No, allora portiamo via sto granchio, oltretutto è buono, lo cuciniamo. L'invasione ad Arezzo così si combatte a tavola. Paccheri al granchio blu si legge sulla carta. Molti ci chiedono come si farà ad aprirli perché sembra un'assurdità, invece è molto semplice. La linguettina tipo Coca Cola, una signora mi ha detto ieri, che ha la visione, e si apre. Si manda via tutto quello che non ci piace e si mettono in un pentolino con l'acqua a lessare e diventa questo fruttino qua. Una volta spolpato tutto, diventa questo prodottino qua, già preparato, che noi prepariamo con aglio, olio extravergine di oliva, prezzembre e pomodorina. Appena storditi ci immergiamo dentro la polpa in modo che rimane la delicatezza del granchio, perché è molto delicato. Ma non solo primi piatti, a breve anche la pizza con il granchio blu. Stamattina leggevo una notizia che dei pizzaioli di Napoli ci fanno anche la pizza con il granchio, che a breve faremo anche noi. Parliamo adesso invece di lavoro. Saranno circa 1200 gli espositori presenti a Vicenza Oro in programma dall'8 al 12 settembre. Quasi il 60% degli espositori proviene dal territorio nazionale. La parte del leone tra le imprese del gioiello Made in Italy la faranno proprio le imprese provenienti dal distretto Arettino. La vendita di tutti gli spazi espositivi, commenta Luca Parrini, presidente di Confartigianato Orafi, è sicuramente un segno positivo. Tuttavia, lo scenario internazionale con cui si confronteranno le nostre imprese Orafi in occasione proprio di questo appuntamento fieristico, appare ancora piuttosto complicato per il perdurare della guerra in Ucraina, ma anche per le spinte inflazionistiche negli Stati Uniti e in Europa, oltre che per le difficoltà del settore immobiliare cinese. Si chiama Letture ad alta voce ed è un progetto tutto made in Arezzo. È un dono da parte di chi legge a chi riceve, ma anche chi riceve partecipa, di quell'emozione di condivisione che si ha solo ed esclusivamente in questo, cioè nel donare del tempo per gli altri. Un giovane gambero pensò Perché nella mia famiglia tutti camminano all'indietro? Voglio imparare a camminare in avanti, come le rane. E mi caschi la cosa se non ci riesco? Cominciò ad esercitarsi di nascosto tra i sassi del ruscello natio. E i primi giorni l'impresa gli costava moltissima fatica. Urtava dappertutto, si ammaccava la corazza e si schiacciava una zampa con l'altra. Ma un po' alla volta le cose andarono meglio. Io leggo per gli altri è il motto di LAV, il movimento dei volontari per la lettura ad alta voce. Nato nel 2009 ad Arezzo, oggi conta oltre 1100 volontari in tutta Italia. Tra loro anche molti giovani e giovanissimi. Arezzo è il cuore perché l'idea di LAV è nata qua, è nata con il circolo LAV di Arezzo che ad oggi conta 40 volontari e volontarie di cui la metà sono teen, quindi sono ragazzi che leggono in vari contesti. Tra gli obiettivi quello di portare storie nei luoghi di disagio, difficoltà e solitudine. Dove le storie in realtà possono realmente fare la differenza. E quindi ad esempio il circolo di Arezzo legge all'RSA di Villa Fiorita, legge alla biblioteca Paolo Poliezi dove si riunisce anche il teen love, legge nella scuola, nell'istituto cesalpino, legge al CLAA, ci sono insomma la casa circondariale di Arezzo e quindi scegliamo le storie adatte che possano creare quel momento di dono reale che si percepisce realmente nel momento in cui vai a leggere per gli altri. Storie che si fanno dunque voce attraverso i volontari. Innanzitutto è importante essere appassionati di lettura, diciamo che questo è un po' il cuore. Poi devo dire che è diversa la lettura autonoma dalla lettura per gli altri e dalla lettura ad altavoce condivisa e questo si impara sul campo, ovviamente si imparano delle tecniche però poi è leggendo per gli altri che ci si fa un po' le ossa come su tutte le cose. Un metodo, quello della lettura ad altavoce condivisa anche al centro di uno studio universitario. L'esposizione alla lettura ad altavoce per bambini e per ragazzi produce effetti che riguardano le capacità cognitive generali, quindi la nostra capacità di trattare qualsiasi tipo di informazione, di elaborarla, produce ovviamente abilità che riguardano la comprensione, il linguaggio, la ricchezza del vocabolario, ma produce anche un'area di effetti che hanno a che fare con le competenze emotive. La capacità di utilizzare il pensiero critico, quindi l'area di effetti, sono effetti che hanno a che fare con il successo scolastico, che hanno a che fare con la vita di relazione, che hanno a che fare con la vita quotidiana e anche con il futuro successo professionale. Quindi sono un'area di effetti che potremmo dire in termini generali riguarda l'intelligenza. Questa è proprio la proposta che come gruppo di ricerca e gruppo di lavoro insieme anche all'Associazione Nausicae e all'Av facciamo dall'Università di Perugia, cioè quella di inserire dal nido fino all'università compresa, noi lo stiamo sperimentando anche con gli studenti, le studentesse universitarie, l'attività della lettura altavoce come attività sistematica in grado di produrre dei vantaggi e in grado, diciamolo anche, di far fruire di storie che sono belle, che ci aiutano a stare meglio, a sintonizzarci con noi e con la nostra vita e con gli altri. Bubu ha finalmente trovato una famiglia, era il fedele amico a quattro zampe di Tiziano Birra, il clochard che viveva in un camper nel parcheggio del plesso scolastico di via 25 Aprile ad Arezzo e che è deceduto lo scorso 7 luglio a vegliare adesso sul cagnolino del quale fin da subito si era presa cura l'EMPA, appunto un'altra nuova famiglia. L'appello peraltro per poterlo adottare era stato condiviso anche dalla nostra emittente. Presentato questa mattina l'appuntamento 2023 di Warehouse Festival, sentiamo allora quali saranno le novità e i gruppi che arriveranno ad Arezzo. Dieci anni di musica ad altissimo livello, dieci anni di festa e divertimento nell'area verde di Zero Spreco. Warehouse at Decibel Festival arriva così alla decima edizione, come sempre con grandi numeri e grandi nomi del panorama nazionale, cantautorale, rap e rock alternative. Tra gli artisti più attesi il prossimo 8 settembre sul palco di San Zeno, nasce da un'intuizione appunto dieci anni fa di raccontare ai giovani, ai cittadini, a persone che arrivano ad Arezzo uno spazio dove sta a esempio in pianti e farlo in questa modalità portando grandi artisti della musica. Nella decima edizione volevamo festeggiarla con uno degli artisti che è stato anche protagonista di bellissime serate negli anni, appunto lo stato sociale e quindi sarà l'ospite principale di questa annata. Accanto a loro artisti anche giovani, emergenti come Drust, come Vipra, un monumento alla musica italiana che è Max Casacci dei Subsonica, che chiuderà l'evento. Sono stati dieci anni dove la musica ha scandito il tempo della trasformazione di quello che era un impianto dedicato all'incenerimento dei rifiuti, la trasformazione in una centrale di recupero che in questi giorni sta attivando la sua linea di biodigestione per la produzione biometano. L'impianto AISA da poco è dotato anche di Verde 70, la nuova linea di compostaggio per la produzione di fertilizzante biologico e metano da rifiuto organico, nato per arginare il problema del trasporto dei rifiuti urbani e speciali su gomma con i relativi costi, come spiegato proprio con questi mattoncini. Sono dei camion, sono degli walking floor da 90 metri cubi l'uno, per l'esattezza in questo momento sul tavolino ce ne sono 400, ce ne dovrebbero essere 777 che sono l'equivalente dei rifiuti organici che dovremmo esportare verso lì di lontani a caro prezzo se non avessimo l'impianto Verde 70, che è quell'impianto appunto che è composta il rifiuto solido urbano e da cui si estrarrà il biometano che potrà essere anche erogato attraverso una zero spreco card. Ed infine per la pagina sportiva è ufficiale per l'Arezzo l'ingaggio dell'attaccante argentino Crisafi che sentiamo nel prossimo servizio in queste sue prime parole in Amaranto. Ho deciso di fermare con questa squadra, perché è una squadra prestigiosa e c'è un bello progetto qua. Sì, conosco tutti i miei compagni, mi sono andando da tre settimane qua e mi hanno trovato molto bene. Con il staff veramente mi hanno trovato benissimo e come ho detto prima mi sono andando da tre settimane e sto imparando lo che metto il mister e ho tratto di fare. Dare tutto lo che posso dare e lo aspettiamo all'estadio e forza Rez! È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortese e attenzione. Arrivederci. Grazie per la visione!